Ringrazio l'opportunità data per poter tranquillizzare le persone circa l'impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica dei rifiuti. La prima cosa che voglio sottolineare è come questo impianto è un impianto che per sua caratteristica, per sua costruzione, non dà cattivi odori. L'impianto è realizzato tutto al coperto, sotto un capannone, l'aria entra nel capannone perché forzatamente con dei ventilatori viene aspirata l'aria e l'aria che esce viene trattata proprio per impedire che ci sia l'emissione di cattivi odori. L'altro punto su cui si sta dibattendo molto è sulla taglia dell'impianto. La taglia dell'impianto deve avere due scopi. Il primo deve rendere l'impianto economicamente vantaggioso per i cittadini che in questo modo possono pagare una tari più bassa. Dall'altro deve avere una sostenibilità ambientale. La sostenibilità ambientale viene data da tutte quelle che sono attrezzature per il trattamento, come abbiamo visto, dell'aria e degli odori che devono avere delle dimensioni standard. L'altra cosa che voglio sottolineare è come l'autorizzazione è un'autorizzazione massima perché la legge italiana ti prevede che sia il massimo autorizzato, il massimo che deve tenere conto dei picchi estivi di carico quando andiamo di più al ristorante, quando ci sono i turisti e nel nostro caso tiene conto anche del fatto che l'impianto è progettato per avere due linee. Quando una è ferma l'altra può continuare a lavorare in maniera che i rifiuti non possano mai restare per strada a causa di inconvenienti, piccole rotture meccaniche dell'impianto. Quindi questo è anche il motivo per cui il dimensionamento dell'autorizzazione, che è la taglia autorizzata, è più grande rispetto alla produzione dei rifiuti della provincia, che sono comunque in ascesa perché i cittadini si impegnano a fare la raccolta differenziata e con la raccolta differenziata si ottiene il primo obiettivo, il secondo che è quello di avere un risparmio effettivo sui costi si ha con la realizzazione degli impianti e questo è il motivo per cui Green Factory, che è una società al 100% di marche multiservizi, vuole realizzare un impianto per poter dare ai cittadini la possibilità di vedere premiati i loro sforzi. Per quanto riguarda invece anche la zona, è uscita un po' la notizia di Talacchio, ma in questo momento non c'è nulla di ufficiale. La zona ufficiale non esiste perché ancora non è stata presentata l'istanza definitiva, stiamo studiando alcune possibilità, stiamo restringendo il campo attraverso quei modelli sia di dispersione sia logistici per la viabilità in maniera che sia il meno importante possibile, perché quello che vogliamo per il successo dell'opera è che sia il meno impattante possibile e quindi stiamo ancora restringendo il campo delle possibili localizzazioni. La cosa certa è che il progetto del biodigestore Marche Multiservizi lo vuole realizzare. Marche Multiservizi lo vuole realizzare e lo vuole realizzare attraverso una sua società di scopo che è la Green Factory, che è una società che opera sul libero mercato per il recupero delle frazioni di raccolta differenziata. Quindi sì, lo vogliamo fare perché non vogliamo perdere l'opportunità di realizzarlo per far tornare ai cittadini anche il frutto degli sforzi. Come abbiamo detto in precedenza, abbiamo fatto la raccolta differenziata, la raccolta differenziata non produce dei risultati immediati, li deve concretizzare attraverso gli impianti. Con questo impianto, che è un impianto che si riesce ad autofinanziare grazie anche agli incentivi per la riduzione del biometano, Green Factory vuole fare l'impianto e vuole fare risparmiare anche ai cittadini un milione di euro circa l'anno in bolletta.